Pordenone celebra i 70 anni dei bersaglieri in città. Da giovedì 21 a domenica 24 novembre sono in programma mostri, incontri, visite guidate e altre iniziative. Il clou domenica con la consegna della cittadinanza onoraria all'ottavo reggimento bersaglieri, il ricordo dei caduti di Nasseria, la sfilata dei soldati in centro e naturalmente il saluto alla città a passo di corsa. Ma anche sabato ci sarà un momento importante che coinvolgerà l'ex caserma Monti. Sarà presentato a cura dell'amministrazione comunale un progetto, si era deciso di far diventare la cancellata e l'ingresso, quindi è sintomatica l'ingresso a un accancello dove le centinaia di migliaia di ragazzi d'Italia hanno superato quel cancello in entrata e in uscita, farla diventare un momento. Il programma è disponibile sul sito web del comune di Pordenone che lo ha realizzato assieme alla locale associazione nazionale bersaglieri, il sindaco Ciriani. Questa è l'ulteriore testimonianza di come la storia della città si è allegata alla presenza delle forze armate e dei militari, in questo caso dei bersaglieri. 70 anni di presenza, 70 anni di professionalità militare, di impegno. Sono anche 70 anni di storia, infatti queste celebrazioni porteranno delle iniziative culturali per approfondire anche il ruolo che hanno avuto i bersaglieri nella storia d'Italia. Ma poi parliamo che dalla nostra storia di Pordenone, migliaia di persone che sono arrivate da tutti gli angoli d'Italia per fare il servizio militare o perché professionisti, quindi all'interno delle forze armate, che poi sono rimasti a Pordenone. Hanno messo su famiglia, hanno tessuto relazioni e una volta dismesse la divisa hanno continuato a dare il loro contributo nel mondo del volontariato, nel mondo del sport come è stato testimonato questa mattina. Quindi ci sono tanti elementi che ci inducono a dare all'ottavo la cittadinanza onorale, proprio perché è la dimostrazione un po' della storia della nostra città, che è una storia sicuramente di aziende, di imprese, di manifattura, di capitani di industria, ma è anche una storia sicuramente fatta di caserme, di bersaglieri e di fanfara.